Siamo venuti a trovare un vecchio amico della nostra emittente, il CEO di Flyon Aereo Oxygen Lab. Siamo nel Parco Scientifico Tecnologico di Tortona. Una buona serata Enrico Forester. Ciao Enrico. Ciao Domenico, come stai? Bene, bene. Grazie innanzitutto dell'ospitalità. Un'azienda, Enrico, che ha fatto parlare tanto di sé perché era primavera, è venuto il Presidente Cirio della Regione con la giunta di Tortona, il Dottor Chiodi. Insomma, un'azienda che fa parlare di sé perché a Tortona è un qualcosa, lasciami dire, un po' di particolare. Sì, diciamo che siamo un po' alternativi, perché di aeronautica a Tortona non se ne parla, però avendo fatto esperienza in giro in Italia, estero, poi era importante portare qui e formare i giovani, che poi è quello che stiamo facendo. Allora, siamo nella vostra sede e chi ci guarda vedrà aerei perché siamo nell'hangar di questa bella sede. Una sede, Enrico, che si occupa sia di corsi teorici che di corsi pratici. So che lunedì è una data importante perché riprendono i corsi di manutentore. Ce ne vuoi parlare? Intanto, quando noi pensiamo agli aeroplani o agli elicotteri, noi vediamo sempre un lato, i piloti, il steward, hostess, e quello è il 10%. C'è un 90% che di solito non si vede, non si conosce, che è dato da coloro che stanno negli uffici tecnici, coloro che stanno nelle ufficine, negli hangar di manutenzione, ci sono i progettisti. Tutti quelli passano o tramite percorsi di studio politecnico, ingegneria, o attraverso scuole, come la nostra, che è specializzata e certificata da ENAC, che è l'ente nazionale a visione civile, che rilascia la certificazione. Quelli che vengono qui, i ragazzi che vengono qua, cosa fanno? Studiano in un percorso che va da settembre a giugno, studiano una serie di materie che sono proprie, le materie riguardano aeroplane, elicotteri, impianti, matematica, fisica, aerodinamica, tutto quello che è la parte teorica. Dopodiché vengono in hangar e iniziano ad esercitarsi. Sono ragazzi, normalmente, che sono appena usciti dagli istituti tecnici, o dal liceo, o chi ha fatto la laurea triennale, viene qui e acquisisce quello che viene chiamato la base knowledge, dall'autorità aeronautica, che li abilita ad entrare nel mondo del lavoro. Perché c'è tantissima richiesta, noi lavoriamo anche tanto all'estero, America, Sud America in particolare, e Africa, e Medio Oriente, c'è una fortissima richiesta di queste persone, perché sebbene noi abbiamo vissuto questi due anni di Covid, dove abbiamo visto che si è abbassato il numero di richieste di voli, obbligatoriamente. Da qui al 2020, 2039, la proiezione, ci saranno 25.000 aeroplani in più che voleranno. Quindi sicuramente sono rimasto impressionato, Enrico, da quante persone, alla fine, hanno trovato lavoro. Sì, questo è uno degli aspetti positivi che noi viviamo, per fortuna, siamo molto contenti di questa cosa, ci differenzia un po' da altre scuole, non per darci delle aree, ma i numeri parlano da soli. Abbiamo il 100% dei ragazzi che vengono assunti. Il percorso dura nove mesi, il ragazzo ha fatto il diploma o la laurea prima, e quindi inizia a lavorare al termine del corso. Per farvi darvi un esempio, l'anno scorso, cioè quest'anno, quando hanno concluso il 3 di giugno, il percorso, i ragazzi avevano già il contratto in mano, sono andati in varie aziende italiane, chi su elicotteri, chi su aeroplani, un ragazzo è andato in KLM, in Olanda, e la cosa interessante è che lavorano tutti, il 100% è una bella soddisfazione. Un'ottima soddisfazione, lasciami dire, anche un vanto per Tortona, perché non ci sono solo ragazzi della zona, ma mi dicevi l'anno scorso c'erano persone di Roma, quest'anno dalla Sardegna, insomma, date la possibilità di conoscere Tortona un po' in tutta Italia. Questo è effettivamente, di fatti poi, vabbè, noi è un po' una nostra, è un po' un giochetto che facciamo quando andiamo in giro nelle varie ambasciate, ci portiamo sempre dietro i baci di Dama, no? Difatti adesso in Africa capita che tante volte dicono ma dove sono i baci di Dama? E' una cosa bellina, anche i ragazzetti che vengono qua hanno la possibilità di girare, di vedere, scoprono un territorio che effettivamente ne abbiamo di cose belle qui in zona. Allora, abbiamo parlato di questi corsi, siamo stati ospiti delle vostre belle aule multimediali, del vostro hangar, ma io so che Enrico Foresto è un pozzo di idee, queste idee le hai tramandate ad altri, hai provato a mettere sul tavolo, insomma, non si parla solo di corsi, so che sei sempre all'estero, insomma, per l'anno prossimo c'è qualcosa che bolle in pentola di nuovo? Ci sono un po' di cose, sì. Digital Twin, tutto quello che ha a che fare con quello che è conosciuto nel mondo virtuale, oggi come metaverso, eccetera, è ben più profondo, arriva ad applicazioni militari, eccetera, stiamo lavorando su un progetto particolare che si chiama Flyon Platform, è proprio di andare a digitalizzare tutto quello che viene fatto in sede fisica, in pratica, nel virtuale, ma non giocando, le applicazioni sono importantissime perché andrà a stabilire esattamente un flusso di attività e soprattutto andrà a sottigliare quello che è l'errore umano, che poi dopo in aviazione è normalmente quello, le macchine non hanno quasi mai problemi, salvo se ci sono problemi di progettazione, però sono rarissimi. L'errore di solito è o tecnico o operativo e quindi per questo vanno formati bene e il Flyon Platform ha proprio questo obiettivo, andare a gestire, ad elaborare i dati in modo che anche assicurazioni, banche, tutti coloro, che avranno poi a che fare con il circuito, avranno dati ed elementi in mano. Ultima domanda, se non ricordo male, una delle tante idee, parlando di amministrazione comunale, era di una possibile collaborazione per l'elisoccorso, sarebbe bello magari avere qui una piattaforma dove... Esatto, si ricordi bene. Stiamo parlando con gli uffici in comune per una zona che sta qua vicino, noi ci siamo resi disponibili ad attrezzare una piazzola, a nostre spese, è un investimento per la città, ma diciamo più che altro, perché quando atterra l'elisoccorso vuol dire che qualcuno si è fatto davvero male, tante volte avere una piazzola attrezzata, adeguata aiuta e salva delle vite. Quindi questo è un po' un qualcosa che è in itiner e vediamo un po' come riusciamo a svolgere. Allora Enrico, il mio più grosso in bocca al lupo, ti verremo magari a trovare a fine dei corsi per ascoltare qualche nuova idea e naturalmente speriamo che la vostra carriera come Flyon Aero possa avere sempre tante soddisfazioni. Grazie mille.